perché lei sta stati sulla tappa? ah tu stai andando, qua stai andando e anche la parte c'è stato stanno facendo un bel corso c'è stata una cosa militare la cosa quando esce là fuori c'è stata la piatura Marika ciao Francesco grazie di avermi portato qua su grazie di avermi portato qua su grazie a te grazie della vostra bella presenza nella mia vita ciao Giacinta facciola di Giffoni invetta Pizzo San Michele sì certo, un prodotto di eccellenza Presidente assaggi lei del nostro territorio grazie 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 Gioè Gioè ma ci siamo proprio visti eh niente proprio wow che figata questa telecamera grazie 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 ma è via Francesco come sei bella? grazie 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 ti sembra uno bugiardo? questo però devi mandare eh la prima poi pure non... ma questo è qua ecco questi luoghi wow che meraviglia che meraviglia ah che meraviglia che meraviglia che meraviglia che meraviglia che meraviglia notate la sacralità di questo posto E anche l'intimità, se vogliamo. Allora, tutti quanti! Daniela, un saluto alla telecamera. Un saluto alla telecamera. Ciao! Ciao! Mario, giusto? Che sto mangiando! Lei la conoscete, Marika? Presidente! Caro! Io sto ripensato! Eccoti! Ti posso dire il tuo dio? Eccoti, arrivati in vetta. Il nostro vicino. Ma poi tu hai fatto quel video, ma la fotografia me l'ha fatto? E dalla!